Siete interessati al gossip al mondo della tv? Iscrivetevi al canale o seguite la pagina. Buongiorno cari amici, ben ritrovati da Max, eccoci qui per una nuova news e questo gesto shock che riguarda Emma Marrone, ma cercheremo di capire un attimino cosa è successo, dove diciamo subito che in particolare non è l'unica ad essere rimasta lei, basita da questa vicenda, infatti migliaia dei suoi followers hanno voluto esprimerle vicinanza, in questo momento sicuramente non facile. Nessuno poteva lontanamente immaginare una cosa simile, invece è diventata realtà e lo sconcerto ha subito preso il sopravvento. Non poteva rimanere in silenzio e attraverso il suo profilo twitter ha esternato tutta la sua incontenibile rabbia, in pratica si è sfogata. Un episodio veramente clamoroso, grave, che ha lasciato senza parole in tanti. In pratica nel pomeriggio di venerdì Emma Marrone ha mostrato di essere furiosa. Questo gesto contro la cantante ha coinvolto un aspetto intimo e doloroso e non poteva certamente perdonarlo. Amici VIP e non solo si sono schierati tutti dalla sua parte, condannando senza se e senza ma quelle parole usate da un utente, quindi la colpa è praticamente di un utente, nei riguardi della donna. Purtroppo è stato tirato in ballo suo papà, che sappiamo essere scomparso mesi fa a causa di una leucemia. Una ferita che è ancora aperta, non si è assolutamente rimarginata. Emma ha letto questo commento di un hater che ha preso in giro il decesso del genitore, dicendo «Ma come festeggerai Natale? Con mamma e papino?» L'artista non ci ha visto subito, assolutamente, ha detto «Ma vi auguro le peggiori sofferenze, cioè tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresentati le mer di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili, perché oltre ad essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo, ti meriti la vita di mer». Che hai? Che hai? Cioè lei già è sicura che ce l'ha questa vita, uno che ragiona così, assolutamente. Ma andiamo a scoprire insieme quali sono stati alcuni dei commenti scritti dai suoi seguaci per capire quanti stanno dalla sua parte, ovviamente la maggior parte. Ad esempio c'è stata vicinanza da parte della modella Elisa Dospina che ha detto «Oddio, speravo fosse un fake sinceramente e invece no». Mentre Manila Nazaro ha applaudito il messaggio di Emma, altri tweet però ci sono stati anche comuni, tipo «Ma non dare retta a queste persone» o «Questa è proprio una deficiente, la gente purtroppo è piccola piccola ma piccola piccola così». Mamma mia che gente è veramente cattiva, non ho davvero parole. Ma non avevamo assolutamente dubbi signori, cioè questo è veramente una persona ignobile. Brutto commento veramente da parte di quel leader. Comunque questo è stato il quanto, io vi ringrazio per l'ascolto di questa breve news, noi ci sentiremo alla prossima, mi raccomando, buona giornata.